Quindi alla domanda sulla preparazione se è diversa, sì è diversa nel senso che è diversa rispetto alle ragazzine comunque le ragazze che hanno ancora 16 anni che stanno facendo un certo tipo di preparazione però quello che ci può dire è che Jessica si applica tutti i giorni moltissimo e che ci mette tutto il suo cuore tutta la sua anima tutti i giorni e lavora moltissimo e il suo allenatore è molto contento di Lady per questa cosa Ok, la ultima domanda, io so che tu sei brasiliano e comunque vi allenate e vivete negli Stati Uniti quindi per voi, per Jessica l'obiettivo di Rio è importantissimo, è un momento, è un sogno Sì, ovviamente, being in my country, in my city, I'm from Rio and to be representing Venezuela with Jessica at the Olympics in Rio it's definitely going to be a dream come true for me, this will be my fourth Olympic game and I'm very blessed to be together with a gymnast of her quality